Siamo con Fra Daniele, frate minore, adesso il convento Sant'Antonio di Torino, ma prima era qui a Bologna. Quindi conosci bene questa città? Conosco bene questa città, sono di Rimini e ho visto nascere il festival perché poi nelle varie città, all'inizio era a Reggio Emilia, poi a Rimini e poi tanti anni qui a Bologna. Abbiamo io e gli altri frati sempre partecipato con molta gioia, è stato per noi anche molto importante per incontrare tanta gente, tanti giovani. Ogni anno portiamo i ragazzi che hanno partecipato alla marcia francescana, anche quest'anno, appunto anche se sono lontano, sono qui con questo gruppo, che sono circa 50-60 giovani che adesso stanno girando negli stand. Sono riconoscibili perché hanno quella maglia rossa, come puoi inquadrare lì, con scritto sopra, è infinitamente buono. No, ecco, giratevi, giratevi, ecco, vedete, loro sono marciatrici con la nostra maglia, ecco così. Ecco, bene. Allora, tu quindi sei un veterano del festival in qualche modo, quest'anno il tema è la fiducia oltre la paura, condividi in qualche modo questa scelta degli organizzatori di questo titolo, ti sembra azzeccata e quali sono le prime, come dire, riverberi che vedi nelle persone in questo titolo? Allora, sì, il titolo è azzeccato perché dopo l'esperienza del Covid e poi anche adesso l'esperienza della guerra in Europa e la gente, io stesso, ecco, siamo provati, siamo provati dalle chiusure, dal distanziamento, dalla solitudine, dal vuoto relazionale, direi, prima di tutto, e anche la paura del domani perché comunque il Covid non è finito, la guerra ogni tanto ci presenta nuovi scenari molto pesanti e inquietanti, quindi è una situazione certamente che sta spaventando e provando tutti quanti, ecco. Allora, noi come francescani, penso che possiamo, appunto, sul simbolo c'è Francesco con il lupo, ecco, tutte queste paure sono questi lupi, diciamo, da affrontare, direi, prima di tutto con la speranza e la gioia che il Signore Gesù non ci lascia mai soli e le tematiche credo che possono aiutarci. Noi, frati minori, abbiamo uno stand dove ci si arrampica, c'è un nostro frate, Ivano, che è un arrampicatore appassionato e quindi anche questo, vincere le paure, la fiducia, nell'aiuto degli altri per andare in alto, ecco, quindi questa è una cosa bella che vogliamo provare a trasmettere ai giovani. Ieri ho ascoltato la vedova Calabresi, intervistata dalla sorella, sua Daniela, è stato molto, molto toccante questa cosa e riporto quello che mi ha colpito, lei e la sua famiglia, i suoi figli hanno perdonato gli assassini, ecco, e dice questo perdono mi ha portato alla pace e allora riflettevo in questi giorni che probabilmente la via del perdono, anche per le cose che stanno succedendo, possa essere una via di pace, ecco, quindi mi sto, sto un po' lavorando su questo e anche con i ragazzi stiamo parlando un po' di questa cosa. E poi lei ha citato che poco prima dell'omicidio qualcuno era andato in casa loro e aveva detto a suo marito stai attento perché è un momento brutto, stai rischiando e lui ha detto proprio, lei ha citato, il signore è mio pastore, non manco di nulla. Ecco, questa cosa mi ha ghiacciato proprio, dico mamma mia che bello, che bello, ecco, fantastico. E allora io spero di trasmettere, io e noi francescani speriamo di trasmettere questa speranza bella, ecco, che la vita può andare avanti anche purtroppo con tutte queste fatiche e tragedie che ci sono.